www.marizopoli.it è in edicola settimanale Mondopadano anche in digitale su www.mondopadano.it nell'inserto economia e lavoro nella rubrica risparmio e finanza nuovo articolo di Giosi Biondelli educatore e consulente finanziario e ci parla come gestire gli effetti dell'inverno demografico sul piano della pianificazione se le aspettative di vita aumentano necessario diversificare e allungare l'orizzonte temporale degli investimenti ecco il nuovo articolo molto interessante per il life cycle di ognuno di noi una buona lettura lo trovate come dicevo in edicola e in digitale nel box invece parliamo dell'evento del 7 di ottobre qui a Your Solution i padri in figlio rivolto ai figli sul coinvolgimento generazionale accoglienza alle ore 17.30 in via Antiche Fornaci 31 a Cremona una buona lettura